Perfetto, buongiorno a tutti, questo è il primo della serie di webinar che il gruppo toscano presenterà sulle Hot Topic eTwinning, stiamo registrando il webinar in modo che poi chi non ha potuto seguirlo in diretta lo possa vedere anche su YouTube, sul canale YouTube Toscana nel giro di un paio di giorni. Quindi si tratta del primo incontro del piano di formazione toscano realizzato in collaborazione con USR Toscana e finanziato dai Twinning Indire. Io sono Luisella Mori, normalmente a coordinare i webinar c'è la referente pedagogica per di Twinning Toscana Simona Bernabei, che oggi non è potuta essere con noi e quindi io coordino al suo posto. L'argomento del webinar è che cosa sono le Twinning Schools e parleranno due ambasciatrici, Laura Ruggero e Sabrina Iacoponi, che insegnano in due scuole i Twinning, che hanno avuto questo riconoscimento. Iniziamo con Sabrina, a cui passerò la parola a breve, magari intanto Sabrina puoi caricare la tua presentazione. Sabrina è un'insegnante della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Certaldo, è ambasciatrice i Twinning, ha vinto due premi nazionali nel 2014 e 2018 e la sua scuola è diventata scuola i Twinning dallo scorso anno. Quindi io a questo punto passo la parola a Sabrina, voi a mano a mano che arrivate firmate nel foglio firme, a breve poi vi metterò anche un link per un foglio su cui scrivere le vostre eventuali domande. Vi prego di fare attenzione quando scrivete a non cancellare le cose scritte da altri e vi prego anche di non fare le domande in chat ma sul foglio per le domande. Passo ai colleghi e ai colleghi che sono online. Allora spero di riuscire a gestire questo, sì, mi funziona. Io sono Jacofoni Sabrina e sono una docente della scuola dell'infanzia. Abbiamo deciso un po' di tempo fa quando è uscita la prima volta questo nuovo riconoscimento di partecipare a diventare scuola i Twinning e questo credo che sia il motivo più importante per cui io sono qui stasera. Come vedete appunto, come vi ho già detto, io sono della scuola dell'infanzia. Allora noi come istituto comprensivo che ha le scuole superiori di primo grado e la primaria, oltre chiaramente all'infanzia, in realtà le Twinning viene utilizzato soltanto nella scuola dell'infanzia e questo a me sembra sempre un po' un limite, nel senso che sì, per la scuola dell'infanzia è un'ottima risorsa, ma lo sarebbe altrettanto anche per gli altri due ordini di scuola. Allora con alcune mie colleghe che collaborano con me ai progetti Twinning abbiamo pensato proviamo a fare questa domanda per vedere se riusciamo a ottenere questo riconoscimento e magari riuscire a stimolare anche i colleghi e le colleghe degli altri ordini di scuola. E così ci siamo imbarcati in questa situazione perché all'inizio fare la domanda per la scuola Twinning non è sembrato così banale. In realtà poi proseguendo e per chi magari ha già provato a fare questa domanda se ne renderà, se ne sarà reso conto, man mano poi procedendo nella compilazione della domanda le cose poi si semplificano, anche se all'inizio appunto sono un po' complicate. Io nella mia presentazione vorrei proprio spiegare in che cosa consiste la modulistica di questa domanda e con dei brevi esempi mentre poi la collega Laura vi illustrerà che cosa invece lei ha fornito come materiali per diventare scuola Twinning. Allora questo riconoscimento vale per due anni, infatti noi siamo anche quest'anno scuola Twinning ma questo riconoscimento l'avevamo ottenuto l'anno scorso e dove c'erano delle piccole differenze rispetto alla domanda di quest'anno tra cui ad esempio l'iscrizione del dirigente alla piattaforma Twinning. Quest'anno non era più un fattore discriminante. Allora che cosa vuol dire scuola Twinning? Scuola Twinning appunto è un riconoscimento ufficiale di livello europeo e questo dovrebbe aiutare ad avere una maggiore visibilità sì dell'attività europea però noi ad esempio noi che siamo una scuola di Certaldo e quindi a margini della provincia di Firenze per noi è un riconoscimento nel nostro oltre appunto a livello europeo anche sul nostro territorio, cioè nel nostro circondario. Noi siamo nel circondario dell'Empolese Valdelsa e noi siamo l'unica scuola Twinning e quindi questo potrebbe essere anche uno stimolo per le altre scuole qui vicino a noi con le quali collaboriamo ad esempio per tanti progetti anche a volte per la stesura del calendario scolastico. Oltre a questo chiaramente il lavoro dei docenti e quindi avere una maggiore visibilità. Devo dire la verità che all'inizio quando abbiamo avuto questo riconoscimento non è che proprio i risultati si siano visti immediati quindi però forse qualche piccolo seme lo abbiamo lanciato. Quindi che cosa vuol dire scuola Twinning? Mirare al coinvolgimento dei dirigenti scolastici. Ecco su questo punto secondo me invece abbiamo non dico fatto centro però abbiamo certamente avuto un appoggio successivo da parte del dirigente scolastico nel proporre alcune iniziative riguardo alle Twinning perché il dirigente scolastico si è avvicinato di più a questo tipo di progettazione, a questo tipo di lavoro ed essendo più coinvolto personalmente ha potuto vedere come si lavora e quali sono i risultati. Perché a volte sì anche se i dirigenti scolastici ad esempio presiedono qualche mostra o qualche spettacolo o qualsiasi... però viverla più dall'interno li rende chiaramente più partecipi. Quindi questo... perché scuola Twinning? Questo è quello che vi ho appena illustrato. Perché dovrei sprecare tutto il mio tempo per ottenere questo riconoscimento? Che cosa mi porta? Porta un valore al nostro lavoro e alla nostra professionalità. Non per ultimo il coinvolgimento dei genitori. Noi abbiamo avuto ad esempio alcuni genitori che si sono iscritti alla nostra scuola proprio perché lavoravamo sul progetto Twinning e quindi diamo un grosso impulso al lavoro con le scuole straniere. A utilizzare lingue che non siano solo l'italiano e l'inglese ma anche altre lingue. Ad esempio nell'ultimo progetto quello Music India che ha ottenuto il riconoscimento nazionale abbiamo cantato e imparato delle canzoncine in greco. Quindi una pari dignità alle lingue, un avvicinamento all'Europa, una flessibilità mentale. E quindi alcuni genitori più sensibili verso queste tematiche hanno iscritto i bambini nella nostra scuola. E questo credo che sia un riconoscimento importante. Quindi la diffusione, un po' di disseminazione del nostro modo di lavorare. Parlando invece di requisiti più stretti, più necessari, da dove dobbiamo cominciare? Intanto c'è una prima fase che l'unità nazionale fa in maniera autonoma, cioè un controllo automatico di alcuni requisiti e una volta soddisfatti questi requisiti automaticamente vi verrà richiesta quindi eventualmente l'accesso alla candidatura. Quali sono questi requisiti? Intanto che la scuola debba essere registrata su e-twinning almeno da due anni e che almeno due docenti della scuola siano iscritti a e-twinning e che abbiano un profilo attivo, cioè che siano partecipi a questo progetto, che non sia solo un proforma. Poi che un docente e-twinning chiaramente abbia ottenuto negli ultimi due anni scolastici un riconoscimento sotto il punto di vista appunto di certificazioni, di quality level, sia nazionali sia europee, insomma dipende un certificato di qualità. Se poi la scuola soddisfa questi criteri, allora appunto l'unità nazionale invierà un sollecito affinché possiate partecipare alla compilazione della candidatura per diventare scuola e-twinning. La seconda fase prevede appunto la compilazione di un modulo di autovalutazione che copre i sei criteri. Un consiglio secondo me importante è non compilare questo modulo da soli. Prima di tutto perché il supporto certo ci aiuta ad affrontare anche delle difficoltà e poi perché magari insieme si trovano anche delle risorse, dei documenti che lì per lì non ci sarebbero venuti a mente, che magari invece sono molto necessari per la compilazione di questo modulo. E chiaramente questo è nello spirito e-twinning. Mai lavorare da soli ma lavorare sempre in gruppo. E qui vedo una delle mie colleghe, Susi, che è qui in chat e che è una delle mie collaboratrici all'interno dei progetti e-twinning. Anche se i riconoscimenti in realtà l'ho avuti io personalmente ma io ho avuto grandissimo supporto dalle colleghe che talvolta non si sono mai fatte vedere ma che in realtà mi sono sempre molto a fianco e che insieme mi aiutano a progettare e insieme lavorare. Il primo criterio è che la scuola sia consapevole sulle attività, su come si possa gestire la sicurezza in internet. Quindi l'uso responsabile di internet è uno dei primi criteri. E noi che cosa abbiamo inserito all'interno di questo modulo? Noi abbiamo inserito una prima modulo di prescrizione. Quando i genitori alla nostra scuola si iscrivono devono anche compilare una liberatoria per la privacy e questo chiaramente è molto importante. E poi una delle tante azioni di diffusione di questa problematica è stata quella del coinvolgimento anche dei genitori in una serie di conferenze dove i relatori erano ad esempio psicologi o esponenti delle poste dove potevano illustrare non solo, quindi sensibilizzare non solo i ragazzi ma anche le famiglie. Ad esempio qui a scuola abbiamo avuto una mattinata con i carabinieri, quindi questi documenti, perciò queste iniziative che vengono promosse all'interno della vostra scuola vanno in qualche modo catalogate e messe da parte, in modo che poi possano risultare utili al momento della domanda. La scuola deve dimostrare di avere una collaborazione attiva almeno di tre insegnanti e quindi, ora io qui ho messo le foto, ma in realtà noi lavorando sempre in gruppo risultano appartenenti, quindi risultano come collaboratori, come collaboratrici attive molte delle mie colleghe, perché all'interno dei progetti poi si dice chi lavora su questo progetto e quindi una collaborazione attiva di un gruppo di almeno tre insegnanti. Poi anche i ragazzi, cioè quanti ragazzi hanno partecipato a progetti e twinning? Noi chiaramente partecipando a classi intere in gruppi di due o tre sezioni, i ragazzi sono veramente tanti e a volte questo numero così elevato di bambini partecipanti ci può creare qualche difficoltà quando ad esempio otteniamo i riconoscimenti, perché quando ad esempio anche quest'anno abbiamo avuto il premio nazionale non siamo riusciti a trovare un luogo adatto che potesse contenere così tanti bambini e tutte le loro famiglie e quindi non abbiamo potuto fare tra virgolette una cerimonia di premiazione che invece specialmente con i bambini piccoli sarebbe interessante fare. Però ci siamo arrangiati in un altro modo e poi vi farò vedere. Ecco, un altro criterio è che la scuola deve dimostrare che due insegnanti e twinning attivi nella stessa scuola hanno partecipato a uno o più eventi educativi e twinning e dare la loro testimonianza allo sviluppo strategico della scuola. Ad esempio, io avevo organizzato degli eventi online, ma questi possono essere anche eventi educativi e twinning in loco. Questo non è determinante, nel senso possono essere diversi. E poi un altro è la scuola deve dimostrare pubblicamente la propria partecipazione twinning. Come? Allora, noi, per noi, ad esempio, è il sito della scuola dove figura tra i progetti e le twinning. Poi, chiaramente, sul sito della scuola è stata messa il logo della scuola e twinning, ma anche vari premi presi durante l'anno e anche la partecipazione ad altre attività e twinning. Chiaramente. Quindi, la scuola deve dimostrare che in qualche modo diffonde questa pratica. Ad esempio, nella promozione, noi abbiamo anche riservato un angolo e twinning nella mostra di fine anno dei lavori e anche questo credo che sia importante. Ecco, in questo criterio F, l'attività promozionale twinning, visto che non potevamo raccogliere tutti i bambini con le loro famiglie in un unico luogo per premiare, abbiamo deciso di creare una specie di poster, di cartelloni, insomma, per far vedere i certificati ottenuti alla fine della scuola. Ed è un modo, appunto, per disseminare i nostri progetti, ma senza dare un supporto cartaceo per ogni bambino, perché non era possibile farlo. Queste sono state le mie idee, diciamo, generali su come preparare la modulistica per la presentazione della richiesta di scuola e twinning. e quindi, in generale, dovreste prepararvi un po' prima il materiale e anche le varie attività da fare, in modo da non trovarvi poi impreparati al momento della domanda. Io per il momento avrei concluso, quindi lascio la parola a Laura, che vi farà vedere tantissime attività svolte nella sua scuola, e poi, eventualmente, se ci fossero delle domande, rimango qui a parlare e a rispondere ai quesiti. Grazie mille Sabrina, grazie anche a chi si è unita a noi da poco. Sì, anch'io rinnovo l'invito di Sabrina a iniziare le procedure per ottenere questo importante riconoscimento con un buon anticipo, anche perché talvolta ci possono essere anche problemi tecnici o comunque, effettivamente, ci si può dimenticare di un documento o di qualcos'altro di importante e, in ogni caso, non dimenticate che, se necessario, anche l'e-tweening support service è a vostra disposizione, e quindi, in caso di dubbi, potete inviare una mail a loro, però sicuramente non aspettando gli ultimi giorni. Allora, a questo punto passo la parola a Laura Ruggero. Laura Ruggero è un'insegnante di lingua inglese presso la scuola di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Figline Valdarno. In passato è stata ambasciatrice e-tweening, adesso è funzione strumentale orientamento e responsabile dei progetti europei. È e-tweener dal 2011, ogni anno realizza tre progetti e-tweening con i suoi studenti, tutti i suoi progetti hanno ricevuto i quality label nazionali e un paio di essi, anche quello europeo. La sua scuola ha ricevuto il riconoscimento del miglior team e-tweening e anche dal 2019 la certificazione di Twinning School. Quindi, insomma, si tratta di una scuola che da numerosi anni lavora con i-tweening, quindi molto volentieri cedo la parola a Laura Grazie. Che ci farà vedere alcune attività. Sì, spero mi sentiate. Sì. Sì, 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 ti sentiamo. Ok, allora inizio. Salve a tutti. Io continuo sulla riga di Sabrina e vi darò, come ha detto anche Sabrina, un esempio di attività che si realizzano in genere nei propri istituti e che sono utili al raggiungimento della certificazione. Ora, sono delle attività che sicuramente tanti di voi già realizzano nelle proprie scuole, per cui non vi dirò nulla di nuovo, però magari non si immagina che possano rispondere alle quattro aree da compilare rispondendo sul modulo della candidatura. E quindi i miei saranno degli esempi pratici. Allora, andiamo a vedere quali sono le quattro aree. L'area più importante, a mio avviso, è l'area della pratica digitale e la pratica degli safety. E proprio qui potete leggere ciò che vi chiede i Twinning e il suo contributo allo sviluppo della consapevolezza in materia di e-safety. Allora, all'attivo nella nostra scuola ci sono alcuni progetti di prevenzione al cyberbullismo. non solo di prevenzione, ma anche di informazione sui rischi e anche sulle virtù della rete. Quando parlo di virtù, diciamo che è anche un fattore di crescita culturale, sociale. I rischi quali sono? I rischi sono quelli che sappiamo tutti. La tutela della privacy, un uso indiscriminato, ma anche poco opportuno della rete che spesso fanno i nostri ragazzi. Allora, alcuni progetti che si realizzano nella nostra scuola, li potete vedere qui nella slide. Il primo è CyberHelp. CyberHelp viene condiviso con 18 istituti della rete RISVA, che in realtà è la rete degli istituti scolastici del Val d'Arna Retino. Questo progetto è un progetto, come potete leggere, di Peer Educator, Peer Tutoraggio e coinvolge le classi quarte della scuola secondaria di secondo grado che in questo caso, in questo progetto, realizzano l'alternanza scuola-lavoro. Le classi prime e seconde del nostro istituto, quindi della scuola secondaria di primo grado, e sempre le classi quarte e quinte del nostro istituto e della scuola primaria. E, diciamo come lo definisce il mio collega responsabile del progetto, un progetto a cascata. Cascata intendo dire che i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, su base volontaria, chiaramente, svolgono un corso di formazione. Premetto che anche i docenti referenti svolgono lo stesso corso con un totale di 25 ore. Questi ragazzi vengono informati sull'uso e sul, ecco, vi apro un attimo, ah, non me lo apre, questo mi dispiace, mi dispiace, non apre il link, ma non importa, lo potete vedere poi in registrazione. Dicevo che i ragazzi vengono informati attraverso questo corso e poi realizzano delle attività e degli elaborati che poi presenteranno ai compagni più piccoli, quindi in questo caso le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Premetto che le attività vengono monitorate e vengono anche, diciamo, sono sotto la supervisione di uno dei responsabili che è il dirigente psicologo dell'ASL Toscana Sud-Est, il dottor Salerno, persona molto competente su queste problematiche e i ragazzi quindi poi della scuola secondaria di primo grado a loro volta realizzeranno delle attività e informeranno i più piccini nelle classi quattro e quinte della scuola primaria. È un progetto piuttosto lungo che sarà realizzato nel giro di alcuni anni, quindi ci vorrà un po' di tempo prima di poter informare ed educare e trasformare in peer educator tutti o la maggior parte delle classi del nostro istituto. Un altro progetto che vedete è il progetto HappyNet che è già da qualche anno attivo nel nostro istituto che è stato progettato e ideato dal comune di Figline in Cisavaltarlo. E anche questo progetto coinvolge sempre gli studenti del nostro istituto soprattutto la scuola secondaria di secondo grado di primo grado scusate. I ragazzi lavorano insieme a degli esperti. Attenzione perché tutti i due progetti CyberHelp progetto HappyNet coinvolgono gli studenti sicuramente ma coinvolgono anche i docenti i momenti di formazione e anche i genitori ed è fondamentale è fondamentale anche inserirlo all'interno della candidatura perché come vedrete quando andrete a compilare il modulo ci saranno dei riferimenti e delle domande in cui vi si chiede se i genitori ne sono coinvolti. Ecco continuo la mia carrellata abbiamo il progetto Let's Beat che è stato realizzato nelle nelle classi della scuola primaria ecco me l'ho aperto per fortuna sì è in collaborazione è con con la collaborazione sì scusate dell'istituto di informatica e telematica e ovviamente è dal CNR che ha formato i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado noi lavoriamo molto in continuità anche con gli istituti di secondo grado che sono nel nostro territorio e questi ragazzi poi hanno realizzato delle attività con i bambini più piccoli ecco vi do un esempio quindi hanno spiegato che cos'è la rete però attenzione hanno spiegato anche come si crea un account su un facebook o come si può falsificare un account e quindi i pericoli ecco chiudo non voglio annoiarvi troppo diciamo che questo progetto fa parte ed è stato ideato da registro.it che se non conoscete vi consiglio di andare a vedere perché è molto interessante il portale di dominio.it e troverete sia internetopoli ma per quanto ovviamente bisogna fare l'accesso quindi bisogna iscriversi troverete tanto materiale da poter utilizzare e delle attività a cui partecipare l'udoteca per esempio del registro.it è quella che avete visto prima ed è per le scuole per i genitori quindi diciamo che comunque sono delle piattaforme utili al non solo all'informazione ma anche a educare i nostri i nostri ragazzi all'uso consapevole della della rete come tutti voi anche noi chiaramente realizziamo progetti con la questura con l'arma dei carabinieri quindi è importante inserire anche queste informazioni e noi abbiamo inserito anche il progetto Erasmus che stiamo portando avanti con la collaborazione dell'Indire insieme a due istituti del due istituti un liceo scientifico il Paolo Ruffini di Viterbo e l'istituto tecnico Artemisia Gentileschi di Milano è un progetto proposto a noi dall'Indire e lavoriamo come potete vedere con altri cinque paesi e con gli istituti nazionali di ricerca dei loro stavolta dei loro paesi le tematiche quali sono si parla di leadership condivisa chiaramente ma le tematiche che noi dovremo affrontare sono l'ICT e la cittadinanza digitale quindi vedete che comunque ritorna sempre la stessa come dire sempre gli stessi gli stessi argomenti che ci chiede una candidatura e twinning attenzione perché andando avanti nella compilazione del modulo vi viene chiesto anche se seguite le direttive ministeriali sicuramente anche noi come tutti voi seguiamo le direttive ministeriali per quanto riguarda l'uso di dispositivi mobili pubblicazioni di foto e video noi abbiamo caricato per esempio il patto di corresponsabilità ai regolamenti interni dove appunto si parla di prevenzione al cyberbullismo e alle modalità qui vedete un'immagine questo è un protocollo su come affrontare gli incidenti come li chiama il portale di safety label che sono relativi al cyberbullismo o a un uso diciamo poco opportuno dei social ho inserito anche come potete leggere apertura di un canale youtube infatti noi abbiamo aperto un canale youtube dove carichiamo ovviamente a cura dei referenti del del sito del nostro istituto foto immagini video che sono riprese all'interno della nostra scuola si evita che facciano le riprese i genitori per motivi di privacy chiaramente per cui i docenti riprendono i ragazzi e poi viene caricato su youtube sotto la supervisione ovviamente della nostra dirigente anche queste informazioni è bene inserirle perché insomma fanno parte sempre della famosa policy come ci chiede i twinning sui temi dell'e-safety e i codici di condotta ho inserito anche il logo e il link di e-safety label è molto interessante intanto vedrete che nella compilazione vi farà continuamente riferimento perché ci sono dei link che vi riportano sull'e-safety label più che altro per essere informati sulla politica dell'utilizzo dei dispositivi mobili se i genitori vengono informati o meno ecco quindi se non conoscete ancora i safety provate a dare uno sguardo perché è molto interessante ovviamente bisogna fare un accesso consiglio di farlo come come istituto io l'ho fatto anche singolarmente ecco user profile è quello ovviamente mio in questo caso my organization è la mia scuola i dati sulla mia scuola scusatemi ecco velocemente ecco mi apre si apre prepare your self assessment process quindi per essere accreditati dovete seguire delle fasi in questa pagina troverete la guida e quindi è molto facile passata la prima fase quindi in cui appunto inserite i dati che vi vengono richiesti si passa alla seconda fase in cui dovete inserire i sources che sono le attività che voi avete realizzato nella vostra scuola in materia di e safety e quindi come vedete c'è sempre un riferimento a twinning e incident che sarebbero i casi di cyberbullismo oppure uso proprio dei social che hanno fatto i nostri alunni sia che sia successo all'interno della scuola o anche al di fuori della scuola caricate anche queste breve descrizioni degli incidenti avvenuti e come li avete risolti quindi qual è stata la politica che ha portato avanti la scuola per risolvere questi problemi e poi c'è la creation che praticamente vi al termine quando avete caricato i materiali che vi sono stati richiesti e siete entrati anche in community un team di esperti vi da un label ecco i safety reputo sia a mio parere importante importante e non a caso il training la candidatura vi chiede e vi fa questo riferimento continuo ai safety label e quando siete sui safety label a inserire i dati vi chiede anche se voi avete lavorate attraverso i twinning se realizzate i progetti e quindi vedete come si punta tutti allo stesso obiettivo alla sicurezza online dei nostri studenti io ho inserito anche generazioni connesse che voi conoscete benissimo perché noi lavoriamo anche con attraverso progetti di generazioni connesse soprattutto i colleghi di tecnologia educazione civica digitale questo questo mi ricordo mi rimanda all'attestato che abbiamo ricevuto come scuola virtuosa proprio sull'uso sicuro e positivo della digitalizzazione quindi come vedete sono questi attestati a volte si ci fa piacere riceverli li inseriamo sul sito ma non sappiamo quanto siano importanti anche per arrivare al nostro obiettivo di scuola e twinning quindi inserirli proprio nella candidatura l'area 2 l'area 2 riguarda gli approcci innovativi creativi alla pedagogia e infatti desidera sapere vi pone domande proprio su questo ebbene noi abbiamo inserito il nostro non solo i nostri strategie i nostri metodi di lavoro ma per quanto anche il nostro progetto importantissimo che è il progetto Dada sicuramente saprete che cos'è quindi non sto a dilungarmi uno stravolgimento degli ambienti di apprendimento e diciamo che di conseguenza anche la didattica la metodologia si deve adattare diciamo che è stato piuttosto fortunato perché anche nella metodologia di tanti docenti i docenti più tradizionalisti è cambiata e si è come dire in positivo nel momento in cui si è attivato questo progetto quindi un po' ha stimolato tutti a mettersi in gioco e quindi a migliorare la propria metodologia le strategie il diciamo che però noi da anni già abbiamo una didattica per competenze realizziamo una didattica per competenze e non a caso se realizziamo da anni la progettualità e tweening lavorare e tweening significa lavorare per competenze ecco avete delle immagini di alunni che stanno costruendo conoscenza che stanno in questo caso in un progetto e tweening vi viene chiesto e lo diceva anche prima Sabrina il numero degli alunni e delle classi coinvolte ecco per esempio noi all'incirca coinvolgiamo ogni anno otto classi tra scuola secondaria di primo grado e scuola primaria vi viene chiesto anche se coinvolgete se sono coinvolti tutti i docenti eh beh sì i docenti team per la scuola primaria i consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado eh lavorano ehm e piace lavorare ehm con la progettualità i tweening quindi sì effettivamente sono li coinvolgiamo ecco questo lo potete aggiungere importantissimo eh diciamo che in genere ehm negli ultimi consigli di classe eh si pensa al progetto che si dovrà aprire ehm tra agosto settembre per iniziare poi a settembre chiaramente ehm quindi vedete come eh sia importante la collaborazione con i colleghi e attenzione perché c'è anche collaborazione tra ehm scuola primaria i docenti della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria di primo grado proprio nella realizzazione dei progetti e area 3 eh area 3 ora finiamo con i tweening il suo contributo come strumento attivo e strategico allo sviluppo professionale degli insegnanti e chiaramente vi chiederà ehm eh se i vostri se i docenti dell'istituto partecipano ad attività di aggiornamenti workshops eventi eccetera e beh sì ehm se se questo avviene è chiaro inseritelo inserite vi chiederà che tipo di eventi hanno partecipato eh chi sono questi docenti quindi andranno inseriti anche i nomi e vi viene chiesto anche se coinvolgete personale esperto personale ATA eh genitori eh sì certo i genitori sono coinvolti sempre ehm diciamo che eh in qualsiasi attività eh loro sono partecipi e noi li rendiamo partecipi quindi che dire gli esperti eh sì in questo caso vedete un'immagine eh un esperto è un arciere del di Figline Valdarno però abbiamo collaborato con la Proloco con l'amministrazione comunale con eh con gli sbandieratori nei vari progetti twinning che noi abbiamo realizzato nel tempo eh anche l'amministrazione comunale ci ha dato ci ha dato supporto e partecipano anche oppure vengono ai nostri eventi o vengono anche eh quando fanno visita quando ci vengono a fare visita a guardare i nostri e osservare i lavori che noi abbiamo realizzato quindi eh se mh inserite anche queste informazioni e poi ecco riguarda i genitori eh noi abbiamo c'è un grande coinvolgimento noi abbiamo genitori esperti come per esempio genitori pediatra o geologi che sono venuti a realizzare delle attività svolgere delle attività con i nostri studenti durante alcuni progetti e twinning quindi magari il genitore pediatra che parlò di alimentazione su un progetto e twinning dell'alimentazione quindi sul cibo ecco quindi se avete di queste esperienze inseritele perché sono importanti l'area 4 si parla di promozione di pratiche di apprendimento collaborativo per lo staff e per gli studenti di disseminazione sviluppo strategico scusate twinning e il suo contributo allo sviluppo strategico della scuola e la disseminazione vi si chiederà cioè sarà importante anche inserire che avete aperto una pagina sul sul vostro sito della scuola vediamo si me l'ho aperto bellissimo allora scusate i twinning qui questa pagina noi l'abbiamo aperta da qualche anno e nella grazie anche al supporto dei dei miei colleghi responsabili del sito la prima pagina è quella informativa chiaramente che cos'è i twinning come si diventa i twinner che cos'è un quality label e poi sono state create delle sottopagine ci sono gli eventi quindi gli eventi che possiamo aver realizzato noi ma anche quelli a cui abbiamo partecipato la progettualità che comprende i progetti realizzati in questi ultimi anni i precedenti li avevamo già inseriti sul sito e sono in un'apposita pagina chiamata progetti poi i quality level che abbiamo ricevuto in questi anni i premi ricevuti e poi abbiamo due bottoni su scuole twinning uno qui e uno come vedete a parte e i tools per la didattica diciamo che questa pagina deve avere queste pagine devono avere anche un obiettivo quello di aggiornare i colleghi ma anche i genitori o qualsiasi altra persona che vada e voglia essere informata sui twinning quindi è stato inserito tools per la didattica ci sono una serie di tools utilizzati in questi anni diciamo di ironicamente carriera e twinning ovviamente utilizzati dai ragazzi per generare prodotti torno indietro ecco qui ho fatto inserito i vari link ma li ho appena mostrati quindi possiamo andare avanti vi viene anche chiesto se i progetti e twinning sono inseriti nel top ma sì certo vengono anche promossi degli eventi attività vengono diciamo che i nostri quality label o qualsiasi altro evento importante viene pubblicizzato grazie ai giornalisti di valdano channel di filina incisa in forma che è il portale quindi l'ufficio stampa del nostro comune e qui come vedete abbiamo inserito il riconoscimento di scuola twinning ecco bene poi è bene inserire anche la come la la disseminazione ecco come noi se presentiamo i nostri progetti se informiamo beh sì certo noi informiamo sia durante gli open days nei momenti di accoglienza e vedete degli esempi e facciamo partecipare i nostri ospiti alle attività create durante e per i progetti e tweening ho rimesso anche un altro riferimento come vedete a L2C ma salto perché ne ho parlato prima sono cercato di essere il più veloce possibile per lasciare spazio anche a voi alle vostre domande spero ovviamente di esservi anch'io come Sabrina esservi stata di aiuto più che altro per per raggiungere quell'obiettivo di scuola e tweening è un bel riconoscimento e quindi è giusto fare qualcosa per arrivare a conquistarlo io vi ringrazio tantissimo soprattutto grazie per l'attenzione ho inserito anche la mia e-mail se avete bisogno di informazioni potete contattarmi vi ringrazio tanto grazie Laura intanto una domanda te la faccio io veramente molto interessante hai detto tantissime cose hai dato tantissimi spunti da approfondire siccome hai parlato del progetto Dada dicendo che probabilmente lo conoscevamo ma magari non tutti lo conoscono ora tramite la condivisione in questo modo non si vedevano cioè se tu clicchi sui link noi non lo vediamo ma questo allora questo eventualmente vi altro dimmi vuoi provare ad aprire cioè o ce lo spieghi magari in qualche parole sì volevo essere veloce e ho sorvolata hai ragione allora il progetto Dada è questo come vedete qui avete il portale scuoledada.it per saperne di più chiaramente qui siamo inserite tutte le scuole che facciamo parte ovviamente siamo delle avanguardie educative potete trovare anche altri elementi altre informazioni su indire ok diciamo che l'obiettivo è motivare gli studenti ok ottenere il successo scolastico io sono anche funzione strumentale orientamento e quindi credo tantissimo in questo e devo dire che il progetto Dada fra i tanti progetti è diciamo come dire il mio parere è di fondamentale importanza io lo sto vivendo e nella mia esperienza devo dire che i ragazzi rispondono molto bene intanto hanno interiorizzato anche le regole le regole le regole nei movimenti ok i ragazzi si devono muovere al cambio dell'ora si devono muovere perché come saprete nel progetto Dada non sono più i docenti che vanno nelle classi ma sono e i ragazzi che vanno nelle nelle classi cioè raggiungono i docenti i docenti hanno le proprie classi e quindi le hanno arredate le hanno come dire le hanno adattate vi faccio vedere vi riapro un attimo il nostro no non me lo apre oh mammina un attimo questo non me lo apre questo è un powerpoint con delle immagini scappa un po' troppo si muove un po' troppo questo ecco vediamo no non me lo trova purtroppo in prova funzionava ora più che altro per farvi vedere delle immagini niente altro niente di così tanto strano ecco ritorno di nuovo qui ovviamente siamo divisi a dipartimenti ogni dipartimento ha un colore noi abbiamo organizzato così gli spazi per esempio inglese il dipartimento d'inglese ha il colore rosso abbiamo tre aule di lingua straniera porto degli esempi poi ci sono il resto delle aule chiaramente ognuno di noi ha dato un nome all'aula è un nome in cui si riconosce per esempio io l'ho chiamato Erat perché perché mi riconosco in questa donna pilota che ha affrontato le difficoltà sprezzante del pericolo e ha affrontato le proprie paure ma perché ho scelto questa icona perché ho scelto questa immagine perché questa persona perché probabilmente volevo dare un messaggio agli alunni che entrano nella mia classe cioè allontaniamo ogni paura affrontiamo le difficoltà siamo un gruppo e insieme ce la possiamo fare ecco quindi come vedete perché ho potuto realizzare tutto questo forse perché avevo il mio ambiente la mia classe e diciamo anche che questa classe viene gestita molto dai ragazzi perché sono i ragazzi che si dispongono i banchi come loro si ritrovano meglio sono i ragazzi che tengono cura degli oggetti che ci sono all'interno della classe all'interno della classe ci sono i giochi di inglese dei ragazzi ci sono i libri di inglese dei ragazzi quindi diciamo che ognuno di noi ha personalizzato la propria aula però l'ha resa anche come dire adatta ai l'ha messa l'ha fatta a misura di ragazzo ecco mi sono mi sono dilungata un po' troppo non so ditemi voi fatemi domande sul data se non sono stata abbastanza esauriente sì i ragazzi si sentono protagonisti è vero sì sì è molto stimolante come state scrivendo è proprio così ai ragazzi piace inizialmente dimmi Luisa dimmi Luisella ci sono due domande sul foglio domande una mi chiedono se è possibile far avere questa presentazione per poterla condividere in un gruppo i twinning sì certo sì un'altra domanda era relativa a un eventuale link per vedere qualche immagine di queste aule cioè sul sito della tua scuola sì 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 sul sito della scuola puoi condividere in chat sì io posso anche allora come vedete su questo powerpoint c'è la mia email io ve lo posso anche mandare via email non ci sono mica problemi ok perfetto allora magari siamo anche aperti come istituto a informarvi ad accogliervi se volete fare un'esperienza e incontrarci e venire a conoscerci a conoscere il nostro istituto e soprattutto la scuola secondaria di primo grado dove si sta realizzando il Dada abbiamo intenzione anche di muoverci l'anno prossimo sulla scuola primaria però non sto ad anticipare nulla ovviamente non proprio Dada però cambiare gli ambienti ecco sì Laura grazie mille ho messo la tua mail anche in chat così eventualmente spero di essere stata chiara sì 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 certo sì vediamo se ci sono altre domande o per te o per Sabrina per il momento mi sembra non ci siano domande sì 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 in effetti è una bella sfida è una bella sfida però vale la pena per quanto riguarda le aule noi ad esempio a parte noi siamo io insegno in un istituto secondario di secondo grado noi ci avevamo pensato qualche tempo fa ma abbiamo un problema enorme di carenza di aule cioè per fare questo progetto in cui sono i ragazzi che si muovono servono comunque più aule che rispetto al numero delle classi o sbaglio sì Luisella purtroppo non si apre il powerpoint che aveva generato la mia collega presentando era una presentazione del Dada purtroppo non mi si apre e quindi non posso mostrarla ma mi puoi mandare per email si c'è a vostra disposizione più che altro per capire meglio sì sicuramente gli spazi sono necessari però attenzione perché per esempio nel mio caso io condivido la mia aula con un'altra collega di lingua inglese per alcune ore così come alcuni colleghi di lettere o di tecnologia condividono la loro aula quindi bisogna che si lavori molto sull'orario è un incastro di orari ovviamente se si riesce a creare un orario come dire adatto anche al numero delle classi forse riuscite a farcela quindi bisognerebbe prendere in esame la disponibilità del numero delle aule e anche dei docenti che devono ruotare in quelle aule ok ecco bisognerebbe analizzare prima partire da qui da questo tipo di analisi e poi vedere secondo me potreste farcela noi ci siamo riusciti certo all'inizio come dire è abbastanza è difficile ok è bella l'idea c'è una grande motivazione ed emozione ok poi diciamo che è un'idea che a me ha sempre appassionato per cui è bellissimo ho lavorato anche inizialmente nella commissione nella commissione dada in cui abbiamo diciamo come dire presi in esame sia i rischi come dire le cose belle ma anche le cose brutte quindi i rischi di un dada le difficoltà ma anche come attraverso le difficoltà poi siamo arrivati alle soluzioni ecco quindi attraverso quel powerpoint che purtroppo non si vede si vedevano anche le fasi di lavoro e quando dico di lavoro intendo intanto la fase di ideazione poi di progettazione e poi di realizzazione quindi è una fase piuttosto lunga ecco abbiamo impiegato un po' di tempo abbiamo iniziato a ottobre però il lavoro è partito quindi il lavoro proprio di come dire della commissione è iniziato nella primavera dell'anno scorso ecco o anche prima ora non ricordo bene ma più o meno i tempi sono questi ecco ditemi io penso di avere sì 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 d'accordo no no ti ringrazio no io dicevo se vuoi provare a mandarmi questo powerpoint ora per email e lo converto in pdf sì l'ho mandato l'ho inviato l'ho inviato sì prima dell'apertura del webinar quindi praticamente dovresti già averlo ricevuto ma stai parlando del di quello pdf sì sì ma quello lo stiamo vedendo no scusami il powerpoint dada dada ok sì te lo invio ok così magari visto che abbiamo una decina di minuti da poter dedicare proviamo a vedere se riusciamo a dare un'occhiatina sì allora provo a inviarlo eh solo un attimo secco ok il tempo di aprire ok sì allora lui c'è là ok invio inviato ok aspettiamo un secondo vediamo che mi agiva inviato ok comunque siete veramente una scuola siete una scuola attivissima in ogni caso leggevo leggevo sì molto spesso quello che vi diciamo che c'è tanta motivazione è quella è la mancanza di collaborazione da parte di altri colleghi invece nel nel vostro caso veramente si percepisce un grande un grande allora si lavora anche vedi il progetto leadership condivisa beh si lavora anche su quello per cui poi alla fine viene naturale allora allora no prima leggevo qualcuno ora non ricordo più chi aveva scritto se possono farci visita a scuola sì certo mi contattate e poi anche la mia dirigente ne parliamo anche con lei sicuramente non ci sono problemi ad ospitarvi ecco a me non mi sta arrivando questa presentazione quindi probabilmente è un po' pesante grazie a voi sì può darsi provo probabilmente nel nel condividerlo su adobe connect ci sta che i power infatti i power point non me li apre mi apre i collegamenti internet non mi apre i power point deve essere proprio sì non lo legge infatti c'è nulla non mi riesce no infatti mi dice che forse non avevo pensato a convertirlo in un pdf vabbè non importa comunque abbiamo il tuo indirizzo sì e poi soprattutto sì possiamo anticipare qualcosa delle nostre problemi appuntamenti il 10 settembre ci sarà un evento e twinning alla scuola di Laura quindi un'ottima occasione per visitare la tua scuola invece per quanto riguarda il webinar e il prossimo appuntamento è il 24 maggio stesso orario quindi dalle 17 alle 18 e 30 circa per un webinar dedicato in particolare ai twinning per gli istituti tecnici cioè alle opportunità di internazionalizzazione per gli istituti tecnici che si aprono grazie ai twinning interverranno interverranno due ambasciatrici toscane Barbara Furiesi che è un'insegnante di lettere quindi molto interessante perché molto spesso troviamo soprattutto insegnanti di lingue straniere invece Barbara è un'insegnante di lettere interverrò anch'io che insegno inglese al Fermi di Pontesera e sarà presente come coordinatrice Simona Bernabei che oggi ho sostituito vi ricordo anche che nei prossimi giorni troverete la registrazione di questo webinar sul canale youtube di Twinning Toscana quindi chi volesse farlo vedere al proprio dirigente alla propria dirigente o a colleghi o anche riguardarlo e approfondire magari qualche aspetto lo troverete sul canale i Twinning Toscana a questo punto io ringrazio moltissimo sia Sabrina sia Laura per tutti gli spunti interessanti che ci hanno dato i consigli e a questo punto interromperei la registrazione e vi darei l'appuntamento al 24 maggio per il prossimo webinar vi saluto a tutti e vi ringrazio per la partecipazione e vi ringrazio